Se riesci a immaginare un luogo nascosto al sicuro in un cantuccio del mondo Quanti uomini riuscirebbero a sopravvivere a tali traversie? Un luogo ricco di tutte le strane bellezze dei tuoi sogni notturni Allora sai dove mi trovo E il Dalai Lama vorrebbe incontrarla signora Devi lasciare il Tibet, la tua vita è in pericolo Come posso aiutare le persone se scappo via da loro? Sette anni in Tibet Stasera alle 21.10 su Paramount Channel Devo rimanere qui Grazie a tutti